Matteo! Sì? Dai che facciamo tardi! Per cosa? Che senso? Per andare su Marte! Ma... Puoi portare solo una cosa! Ok! A parte i vestiti! E il cane! E il cane! Vai! Il cane c'è! Ok ce l'ho! Vai 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 vai! Vai vai vai! Ok! Pronta? Allora! Io porto il computer! Banale però ci puoi fare un sacco di cose! Beh io vi porto l'impastatrice! Meno banale ci puoi fare molte più cose! Funziona su Marte! E che ne so qualcuno porterà l'elettricità! Giusto mi servirà anche per il computer! Ok! Vai! Dai dai dai! Prodi! Il casco l'è mezzo! Dai la tuta! Dai dai! Dobbiamo lasciare la faccia della terra e potete portare solo un oggetto con voi! Solo un oggetto! Cosa portate? No god damn! Eh questa cosa è molto... Un oggetto! Un oggetto! Allora se dovessi scegliere un oggetto da portare... Beh cosa porterei con me? È molto difficile! Eh che bella domanda! Credo... Qualcosa da mangiare così... Forse la mia bicicletta! La farina! Sì! Una cosa o una persona? Le persone possono venire quindi una cosa! Quindi una cosa! È il Kindle mi sa! Caspita è una domanda interessante! Libri! Sì! Libri o musica? Perché? Eh perché non potendo scegliere un solo libro almeno col Kindle potrei portarmi tantissimi libri! Questo sarebbe sicuramente un vantaggio! Beh perché sono due diciamo così per quello che mi riguarda due tipologie di passatempo che ti danno qualcosa! Ti danno qualcosa e ti danno delle radici, un ricordo, una storia... Il telefono! Eh sì però non hai internet, non hai niente! Ma ho le foto di tutto il passato, tutte le cose che ho fatto, i ricordi, altro che... ho tutto! Una bombola di ossigeno! Intanto un oggetto... le mie Nike preferite! No che... le mie Nike preferite! Sì! Il telefonino! Ma porterei sicuramente un libro, un libro! Io porterei il mio pianoforte! Io la bicicletta! Non si sa dove si arriva però io pedalo! Però! Hai ragione, la bicicletta hai ragione! Perché? Perché? Perché sono un pianista, suonare è la cosa che mi piace fare di più e quindi quello sarebbe l'oggetto scelto diciamo! La mia bicicletta perché insomma mi piace andare in giro, mi piace vedere nuovi posti e a piedi è molto più difficile con la macchina inquinante invece con la bicicletta riesci a stare a contatto con la natura e soprattutto se è una bella giornata di sole come oggi! Citazione da Zoe 101, un calzino! No, a parte gli scherzi! Non porterei probabilmente un calzino però probabilmente ci porterai un libro perché quello che secondo me mi mancherebbe tanto della terra è la compagnia! Quindi cercherei di portare qualcosa che mi tenga compagnia in qualche modo! Cosa faresti con il telefono? Beh innanzitutto comunicare con gli altri, scoprire e condividere! O in alternativa, non lo so, forse la macchina fotografica! Non sono particolarmente attaccata agli oggetti! Ti avrei detto il mio cane ma non è una cosa quindi... Il cane può venire comunque! Il cane può venire comunque, me lo vale! Ah, se sei salva! Io faccio musica, mi metterai a scrivere musica tutto il tempo, stare là a scrivere, 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 scrivere a manetta! Ho il telefono, ciao! È che mi servirebbero anche le cuffie però va bene anche se... E io porto il telefono, tu le cuffie! Ecco! Una cosa che sicuramente non porterei con me sono tutte le mie vertigini! Invece potrei portare con me, e sicuramente voi vorrete portare con voi, tutti i materiali per imparare meglio l'italiano! Materiali come esercizi che sono ogni settimana diversi a proposito della cultura italiana o del tema della settimana! Poi ci sono materiali come video senza sottotitoli, audio lento e veloce per poterlo ascoltare quando si è in giro o da ascoltare leggendo la trascrizione, che è un ottimo modo per imparare l'italiano! Per saperne di più basta cliccare il link in descrizione! E che libro porteresti? L'insostenibile leggerezza dell'essere! E' un libro un po' pesantino, però mi ricorderebbe tanto la Terra! E di che si tratta? E' un libro che tratta della storia di una ragazza e di un suo compagno, che non è un marito, penso sia proprio un compagno! E più che altro racconta l'esperienza di una vita umana vera e propria! E analizza molto introspettivo, analizza molto l'essere in sé! Che tipo di libri porteresti nel tuo Kindle? Allora, vediamo! Sicuramente qualche saggio interessante, io sono antropologa e quindi qualcosa che possa essere interessante da studiare! E poi qualche romanzo, qualche bel romanzo... Ecco mia figlia! Invece qualcosa che lasceresti indietro molto volentieri? Credo il telefono, il telefonino, sì, il cellulare lo lascerei così almeno ce ne liberiamo per un po'. Sì, è una cosa che utilizzi sempre! No, oppure tutte le carte, tutte le... La burocrazia di qualsiasi... La burocrazia! Per fare qualsiasi... In Italia la burocrazia, sicuramente! Perché? E allora, innanzitutto non sappiamo se dall'altra parte abbiamo la linea, quindi è inutile portarlo! E poi almeno ti disintossichi e hai la possibilità di ricominciare un po', un nuovo mondo, quindi perché no? C'è qualcosa che lasceresti volentieri? Qualcosa che lascerei volentieri? A parte qualche chilo, sicuramente lo lascerei volentieri! E poi... Non lo so, forse lascerei volentieri un po' di lavoro indietro, magari! Il telefono! Il telefono, il telefono cellulare, non lo voglio sentire, né quello del lavoro, ne ho due! Né quello del lavoro, né quello normale per, diciamo, la vita di tutti i giorni! Nessuno di tutti e due! È il computer, ovviamente! Non saprei... Non c'è proprio un oggetto che non mi piace o che non voglio più vedere! Il cellulare! Lascerei indietro molto volentieri, sì! Perché adesso ormai siamo abbastanza schiavi delle tecnologie in generale e del cellulare! Adesso non volevo fare il nonno della situazione, però appartengo alla generazione che in realtà utilizza moltissimo i social, però sicuramente mi rendo conto dei limiti che possono comportare! Tutte le persone che odiano la musica nuova perché è nuova o odiano la musica vecchia perché è vecchia? La musica è musica e può essere bella a prescindere da quando è stata creata e mi danno fastidio le persone che pensano in quel modo! No, volentieri non lascerai nulla! Quindi cerco di portarmi tutto quello che mi serve e lo porto con me! E come sarebbe la tua vita senza? Ma sicuramente meno stressata, nel senso che star dietro comunque ai social, ai messaggi diventa abbastanza impegnativo in alcuni casi! Non diventa un relax, ma diventa più impegnativo! Quindi sicuramente sì, sarei molto più sereno! Ho quelle persone, però no dai, mi dispiace poverine! Cioè, alla fine! Quindi dai, alla fine la mia risposta è niente! Mi dispiace lasciare qualcuno indietro! Lascierei l'invidia, proprio tutta l'invidia che esiste nel mondo qua! Via, 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 via! Te? Odio i brutti ricordi, solo brutte esperienze, le bad vibes, tutte le cose negative! Però non puoi parlare in inglese, devi parlare in italiano! Le brutte vibrazioni! È italianizzata ormai, bad vibes, brutte vibrazioni, siamo là! Siamo là, sì! Sì, 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 le persone negative! Beh, ma quello è scontato come risposta! Penso che le negatività le lasceremo giustamente qua, perché purtroppo ce ne sono diverse, troppe forse! Probabilmente il sistema, nel senso il dover lavorare per ricevere soldi, che tra l'altro ne stavamo parlando adesso, stavamo parlando anche noi di aprire un canale YouTube, di fare cose! E sì, probabilmente è quello, lasciare più le persone libere e vedere come va! Abbiamo tutto? Abbiamo i libri, il computer, abbiamo anche... possiamo fare il pane, perché abbiamo la farina e l'impastatrice, e abbiamo la bici per andare da una parte all'altra. Abbiamo perfino la bombola di ossigeno, quindi siamo pronti! E voi cosa portereste? Scrivetecelo nei commenti! Ciao! Ciao!